Stiamo partendo per una nuova avventura, vi porto con me. Anche se un po' stanchi, siamo felici di partire. Con tutte le nostre valigie ci dirigiamo verso il check-in. Per questo viaggio volerò con Neos, la compagnia aerea del gruppo Alpitour. Bene, check-in fatto, ma non vi farò ancora vedere la destinazione perché è una sorpresa. Passiamo i controlli e ci rilassiamo un attimo nella lounge. Pronti per imbarcarci ed ecco il nostro aereo. Appena arrivati, le hostess ci hanno accolto dandoci una salvettina rinfrescante. Molto utile per il viaggio, vi piaceva anche il profumo. Ho scelto il posto in Economia Extra per essere più comoda, infatti ho un stacco di spazio davanti a me per distendere le gambe. Il mio viaggio durerà 6 ore, decido di intrattenermi un po' guardando un film. Ci portano un primo spuntino, per me passo gluten free essendo celiaca. Tra l'altro questo biscotto è buonissimo, un po' di nanna e altro spuntino in arrivo. Ho davvero apprezzato moltissimo l'attenzione che hanno avuto per le mie allergie. Il tempo è volato, siamo già arrivati ed eccoci a Capoverde!